Campanaro, 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 non si dimentica mai. Alacalafiore è stato squalificato per le prime tre giornate di campionato. Questa è una notizia ufficiale, una notizia delle ultime ore, le motivazioni le volete proprio sapere. Vi volete arrabbiare insieme a noi? Sì, e riguardano i fatti di Viola Reggio Calabria, Moncada, Agrigento. E quello che è successo riguardo un noto individuo che da tanti anni ormai becca squalifica in tutta Italia. Sto parlando di un ex giocatore di Agrigento, poi diventato dirigente, insomma. A Reggio Calabria è successo, è successo veramente poco, pochissimo, fuori dal palazzetto. Le carte sono arrivate alla Procura Federale e la sommatoria è che la decisione della Corte Federale, in prima istanza, ci sarà sicuramente un ricorso, è che la Viola Reggio Calabria non potrà giocare in casa le prime tre giornate. Sì, volete sapere dove giocherà la Viola Reggio Calabria le prime tre giornate? Sì, speriamo tutti a Reggio Calabria, sì, ce lo auguriamo. Però il campo, l'unico campo disponibile qui vicino, non è il Palamaiata di Vibo Valenza, state tranquilli, ma è il Palalberti di Barcellona. Non siamo molto tranquilli, è tutto molto complicato. Analizzeremo anche questo insieme ai nostri ospiti, oggi parleremo di basket giovanile, parleremo della Viola anche perché alle ore 18 proprio a Barcellona la Viola giocherà un bel test amichevole contro la compagine di coach Nisic, dopodiché nel weekend sabato e domenica prende il via il trofeo Sant'Ambrogio proprio al Palacalafiore. Brutte, bruttissime notizie in arrivo anche dalla gestione del Palacalafiore, gestione che è ritornata al comune, speriamo che anche qui prevalga il buonsenso perché al momento la Viola potrebbe addirittura non avere un campo dove allenarsi, eccezione fatta per il centro Viola. Parleremo anche di questo durante questa puntata, realmente incandescente. Sulle motivazioni dei fatti pro-agrigento, la Corte federale ha deciso bene o male, non lo sappiamo, anche se i fatti sono accaduti fuori dal Palasport e non dentro il Palasport. E non si tratta di fatti eclatanti come accadde tanti anni fa e neanche tanto contro Catania. Anche lì arriva una bella squalifica per la Viola, quattro giornate, mano pesantissima da parte del giudice sportivo. La Viola ha già annunciato, non ancora con comunicato stampa, ma ci sarà inevitabilmente un bel ricorso. Adesso piccola pausa e poi torniamo col primo ospite di oggi, a tra pochissimo. Sofia, direttamente Dutturi in 104, sono le 14.14 e sta per partire con direzione Barcellona, sperando sia l'ultima volta in questa stagione. Dico bene, Quach Paternoster? Sperando che sia l'ultima volta, sì, dici bene, dici benissimo, speriamo che sia l'ultima volta. Come ben sai abbiamo subito, secondo me, l'ennesima bespa dell'anno scorso della federazione, perché secondo me è incredibile che a distanza di molti mesi ancora episodi della passata stagione non sono ancora stati definiti in maniera precisa e totale. Ad oggi abbiamo una squalifica di tre giornate del campo, però sicuramente il ricorso spero abbia effetti positivi, se no saremo costretti a tornare a giocare a Barcellona. Cari amici, tifosi, spettatori della Viola, chi c'era e ha visto cosa non è successo in quella serata a Palacalla Fiore scrive direttamente alla FIP di Roma, vediamo se magari loro riescono a dare una bella risposta, anche perché la situazione ha del grottesco. Torniamo alla pallacanestro giocata, come sta il tuo gruppo, coach? Il mio gruppo non sta benissimo, questo è un dato di fatto, nel senso obiettivamente in queste tre settimane abbiamo accusato qualche acciacco di troppo, qualche infortunio fortuito che ci ha impedito obiettivamente di lavorare al completo. Questo però non è un mettere le mani avanti, questo vuol dire che siamo sicuramente sulla via del recupero, perché Marulli ha superato brillantemente l'ultimo esame, Fallucca domani mattina farà questo ultimo accertamento e spero che andrà bene, quindi spero già di poterlo mettere in campo. Obiettivamente sono molto fiducioso che da martedì finalmente possiamo, anche con l'arrivo di The Fly domenica, martedì finalmente possiamo cominciare a lavorare veramente al completo, come piace a me. Ci sarà Caroti oggi? Caroti ci sarà, sì, Caroti lo abbiamo tenuto fermo queste 36 ore proprio in funzione di questa partita, non l'abbiamo fatto neanche stamattina, non l'abbiamo fatto allenare, però oggi pomeriggio sarà sicuramente della partita. E poi appuntamento nel weekend al Pallacalafiore, con la speranza che questo palasport diventi una certezza per questa formazione in tutti i sensi, e si gioca prima contro Caranzaro e poi si aspettano i risultati delle semifinali. Ritroverà i coach Gianni Tripodi, sarà un bel test tutto calabrese. Sarà sicuramente un bel test, ritroverò un caro amico come Gianni Tripodi, spero sinceramente di entrare a Pallacalafiore, di giocare nel nostro palazzito. Ad oggi non abbiamo ancora fatto un allenamento lì, spero vivamente di cominciare a giocarci già da sabato, con la speranza appunto che veramente diventi la nostra casa. Ok, noi stiamo provando a dimenticare la passata stagione, adesso toglieremo anche le azioni di Crosariol e Valero Spinelli dalla sigla di questa trasmissione, però molto spesso sembra come un boomerang, quando meno te lo aspetti torna. Adesso vabbè, è una notizia che ci ha lasciato un po' spiazzati. L'ambiente dei giocatori è sereno, come la stanno vivendo questa situazione? No, l'ambiente dei giocatori è molto sereno perché obiettivamente speriamo tantissimo nel ricorso e speriamo veramente di poter giocare già dal 9 novembre in casa contro Villa. Se non sarà così, chiederemo ancora una volta un sacrificio ai nostri tifosi di seguirci comunque in massa in quel di Barcellona. Spero vivamente di giocare il 9 ottobre in casa contro Villa. Allora, è precampionato, in tanti dicono perché la Viola sta facendo tutti questi test contro formazioni O di A1 o di Serie B. Gli unici test contro squadra A2 arriveranno col Memorial Morelli. È purtroppo una scelta obbligata per questioni logistiche? È solo e soltanto, purtroppo, ahimè, una scelta obbligata per motivi logistici perché obiettivamente siamo lontani dalle altre realtà. Obiettivamente Trapani non ci siamo riusciti a incrociare perché per i vari tornei, sia quello di sabato prossimo e quello di Legnano, quindi loro erano impegnati su altri campi. Con Agrigento sei bene che per fatti sempre della passata stagione non era a caso fare amichevoli e quindi obiettivamente siamo lontanissimi da altre squadre e quindi gioco forza abbiamo affrontato Serie B e Capodorlando di A1. Francamente questo dispiace perché si va a creare una rivalità realmente troppo troppo forte tra due formazioni che probabilmente sono due delle poche squadre che da tanti anni ci stanno mettendo tanto in questa palla canestro. Assolutamente, è una cosa che mi dispiace tantissimo. Spero che veramente si possa voltare pagina e parlare solo di basket giocato e di risultati sul campo. Assolutamente, coach ci vediamo pomeriggio, ti lasciamo perché so che hai tra qualche minuto la nave che porterà la Viola a Barcellona con l'auspicio, incrociando le dita, che sia, non dico l'ultima perché farà sempre comodo fare amichevoli contro Barcellona, però speriamo sia l'ultima. Deve essere l'ultima, partiamo con la consapevolezza e la speranza che sia l'ultima volta, non perché non ci piace il campo di Barcellona o gli amici di Barcellona, ma perché vogliamo giocare nel nostro palazzetto. Un abbraccio, fortissimo, a presto, saluto a tutti. Era Antonio Paternoster, coach della Viola Reggio Calabria, ricordiamo l'appuntamento alle ore 18, seguiremo con collegamenti in diretta con la complicità del nostro buon Filippo Lopresti questo appuntamento a partire alle ore 18, dicevamo, sperando, come ha detto giustamente il coach, che sia l'ultima partita della Viola a Barcellona. Ribadiamo cosa sta accadendo per chi si fosse collegato esclusivamente in questo momento. La Viola Reggio Calabria ha subito la squalifica del campo di tre giornate. Dunque, il campionato che si va ad aprire vedrà la Viola Reggio Calabria partire con tre giornate di squalifica del campo. Quando ha commesso questa sorta di reato la Viola Reggio Calabria, non in questa stagione, non nel precampionato, bensì nella passata stagione e non nell'ultima giornata. L'ultima giornata la Viola giocò contro Rieti. Era un Viola moncata agrigento, accaddero dei fatti spiacevoli sicuramente fuori dal palasport, certificati dalle autorità competenti, dai carabinieri per l'esattezza. Le carte sono arrivate alla Procura federale che ha deciso di sanzionare la Viola Reggio Calabria con tre giornate di squalifica. Accanto a questo ci furono anche delle squalifiche personali, sia dirigenti della Viola che soggetti ben individuati della moncata di agrigento. È tutto molto preoccupante. Ci auguriamo che tutto si possa sciogliere con un bel intervento della Viola Reggio Calabria dal punto di vista legale. Sono tre giornate di squalifica, per come conosciamo la Lega, la FIT, probabilmente si potrebbe arrivare anche a una giornata di squalifica giocando a Biella, la partita contro Biella in casa a Barcellona. Però questo è un danno fortissimo per la società, per la Viola Reggio Calabria. Non ci dimentichiamo che c'è una campagna abbonamenti aperta, apertissima. C'è tutta una città che aspettava l'esordio della Viola Reggio Calabria. Lo stiamo ribadendo da tante settimane. La prima di campionato sarà in trasferta in quel di Scafati contro Agropoli. La seconda era in casa contro Biella. Campanaro, no, campanaro, Marco. E campanaro, campanaro, non si udimentica mai.